Presentati, nome, età, ruolo in azienda. Ciao, sono Francesco Bonvino, ho 21 anni e sono uno sviluppatore front-end, appartengo alla DFXM. Ciao, quindi quasi mio nipote. Ciao, sono salvatore delle foglie, mi occupo di edotto presso il PAT Aslbari e sono un assistente applicativo. Da quanto tempo sei in Ex Privia? Otto mesi, infatti sono uno tra i più giovani. Io dal 2007 ho 62 anni, quindi sono il nonno di tutti, il più vecchio. Ti ricordi il tuo primo giorno? Sì, infatti appena arrivato in azienda ho subito avuto modo di conoscere altri sviluppatori più esperti che mi hanno spronato di più nell'imparare. Allora, il mio primo giorno, lo ricordo anche se non sono venuto qui in sede, perché ho presso servizio, ho presso le Aslbari, però me lo ricordo perché disse a mia figlia, oggi vado in un'altra azienda anche se vado nello stesso ufficio. E la cosa che ricordo è che quando mi sono recato in ufficio ho cambiato l'etichetta dall'ex Dream Service a Ex Privia. Tre parole per descrivere Ex Privia? Disponibilità, flessibilità, rinnovamento. Giovane, progressista e internazionale. Un'immagine per descrivere Ex Privia? Una casa sul mare. Essendo un barese che vive sul mare, vedo il mare, l'orizzonte, l'immenso. Cosa ti rende fiero di lavorare in questa azienda? Avere la possibilità di imparare sempre nuove cose e restare costantemente aggiornati. Beh, di lavorare in un'azienda del meridione pari alle aziende del nord che vantano professionalità. Noi siamo un'azienda professionale. Quali sono i tre valori fondamentali di Ex Privia? Digitalizzazione, competitività e innovazione. Allora, diciamo, professionalità, giovinezza e una visione per il futuro. Se Ex Privia fosse un'automobile sarebbe? Una Tesla. Beh, per me sarebbe una nuova macchina elettrica con tutti gli apparati più sofisticati, per una guida migliore, una macchina elettrica, che vorrei pure. Fai un augurio a Ex Privia. Buona fortuna, Ex Privia. Beh, cito una canzone di Rom, vorrei incontrarti tra cent'anni. Quanti ne mancano ancora? Sei tipo Bono? Tre. Finito? Cioè, ti vedo fra quarant'anni. Finita? 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 Grazie a tutti.